Perché siete qui oggi? Siamo qui perché è l'ultimo colpo di mano della Corte Costituzionale e ha dato il colpo di spugna alla democrazia, negando un referendum stra-richiesto dalla gente sulla legge Fornero che riguarda le pensioni e che riguarda tantissime persone. Ha detto no alla democrazia, ha cancellato un momento che poteva essere importante, ma evidentemente ormai la politica è entrata in tutti i palazzi e chi doveva essere arbitro e terzo non l'è più.